Iniziative, presidi e manifestazioni in città in occasione dello sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato da OSB, Cobas e Usi. L'agitazione è stata indetta per la difesa dei diritti del lavoro e dello Stato sociale. In zona industriale questa mattina la mobilitazione della logistica è iniziata all'alba e ha raggiunto il culmine con il corteo di macchine e camion che per un'ora ha rallentato il traffico davanti all'interporto cuore della protesta dei lavoratori dei magazzini. Grazie a tutti.